Si è passati dal Covid al West Nile, un'altra estate di passione per le terapie intensive degli ospedali padovani che mentre si svuotavano dei pazienti colpiti dal Covid si sono riempite di persone contagiate dal virus trasmesso dalle zanzare. Il bollettino da luglio ad oggi conta 141 casi, di questi 63 sono forme neuroinvasive piuttosto gravi. Negli ospedali dell'Usle Ugania sono 16 pazienti ricoverati, in azienda ospedaliera Padova invece 14 di questi 10 sono seguiti nei vari reparti di terapia intensiva. Questa patologia determinando una encefalite e una paralisi flaccida ovviamente ha dei recuperi molto lunghi in terapia intensiva anche perché hanno necessità di essere ventilati meccanicamente per periodi altrettanto lunghi. Un paziente è ricoverato in terapia intensiva da più di un mese e anche la ripresa a tempi molto lunghi. Per la prima volta il virus che per il 70-80% dei casi è sintomatico non ha colpito solo gli anziani ma sono stati ricoverati con forme febbrili anche giovani attualmente. Per esempio ci sono in cura due 17 anni a Padova. Verosimilmente il clima di quest'anno che è caratterizzato purtroppo da un caldo forse eccessivo rispetto a quello che eravamo abituati ha determinato un'espressività diversa di questo virus che ovviamente nella maggior parte dei casi come lei diceva è un virus che determina una forma sintomatica o simile influenzale. Oltre alle disinfestazioni messe in campo dai comuni ci si può difendere così spiega il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Giuseppe Dalben. Alba e tramonto quando usciamo possibilmente usare camicie, manica lunga, pantaloni lunghi. C'è l'attenzione a tutte quelle situazioni di acqua stagnante quindi vasi dei fiori, secchi d'acqua, piscinette che usiamo per i bambini in questo periodo che vanno ricambiate con una certa frequenza come acqua e così via. Le stesse ciotole per i cani per esempio, per gli animali, non devono essere lasciate lì per tempi prolungati. Contro il virus West Nile ci sarebbe anche un vaccino sperimentato otto anni fa. Lo ha detto il professor Giorgio Palù, presidente di AIFA e professore di virologia dell'Università di Padova. Ma è sempre mancata la volontà delle industrie farmaceutiche di svilupparlo perché la malattia ha una scarsa letalità e un'incidenza variabile legata alla stagionalità, ha spiegato Palù.